Il campo basso prova l'ebbrezza della vittoria più sofferta dell'anno contro un'Aprilia che scende a Selvaviana con il preciso intento di strappare punti. Decide Rossetti a dieci minuti dalla fine con un destro pregevole. Cudini indovina i cambi nella giornata in cui forse è mancata brillantezza da parte di più di un elemento nell'organico. Ma il tutto può rientrare nella normalità di un campionato molto dispendioso. Dirige il signor Pelletti di Crema. Aprile aggressivo al settimo dal fondo Bo si chiama in causa in qualche modo Raccichini alla parata. Sul fronte opposto e siamo al nono. Esposito a scoccare un destro che prudente blocca in due momenti al ventesimo da corner per il rosso-blu. Calciato da Esposito e prudente a scacciare il pallone con Candelori che tira di destro ma non inquadra lo specchio della porta. L'Aprilia gioca a calcio e prova a chiudere i passaggi ai rosso-blu. Tuttavia la squadra di Cudini al ventottesimo va vicinissima al gol con una punizione molto pericolosa di Van Zan su cui è altrettanto abile e prudente a sventare. Il difensore di casa è stato bravo a cambiare palo nella circostanza. Il campo basso è generoso ma non riesce ad essere imprevedibile. Al trentottesimo tiro a giro di Candelori con la palla di poco sul fondo. Dopo un minuto discesa a destra di Wedraogo il cui cross è deviato in angolo da Fabriani non senza qualche rischio. Nel finale di tempo prima della sua uscita Oliveira, il giocatore fra i più rappresentativi dell'Aprilia, si produce al 42esimo in un destro ben bloccato da Raccichini. Qualche secondo dopo lo stesso Oliveira è costretto a lasciare il campo a Vasco per un risentimento all'adduttore. L'Aprilia ben figura a Selvapiana. Al 45esimo dal tiro di Bosi c'è la deviazione di Candelori da cui viene innescato Pezzone il quale calcia male e a lato. Il finale tutto dei laziari al 46esimo dallo stesso Pezzone a Wedraogo che alza incredibilmente sopra la traversa. Azione ferma per il fuorigioco probabilmente dello stesso Pezzone. Tutti all'intervallo con un parziale tutto sommato giusto per quanto visto a Selvapiana. Con le immagini di Antonio Trotta siamo nella ripresa. Al quarto suo esposito lanciato in area di rigore rinviene Pollace che effettua un passaggio fortuito al collega portiere Prudente che blocca. Al decimo grande discesa di Cogliati sulla corsia Mancina. Al centro Succi è bravo ad anticipare Vitali in calcio d'angolo. Mentre al dodicesimo incursione pericolosa di Bossi deve allontanare la sfera Fabriani senza pensarci troppo su. La partita rimane molto equilibrata e meno vivace rispetto al primo tempo. Al ventiquattresimo la palla gol più importante per il rosso-blu. Il cross di Bontà proviene da molto lontano ma dopo un rimbalzo a terra Cogliati con il sinistro di non perfetto equilibrio. Manda fuori dal ventisettesimo Cudini decide di estromettere proprio Cogliati per inserire Rossetti. Sarà il cambio decisivo. Qualche secondo più tardi grossa palla gol per l'Aprilia con il destro molto preciso di Vasco su cui compie Raccichini. Davvero una gran parata. Al ventinovesimo il neo entrato Rossetti prova a sorprendere Prudente sul primo palo. Il portiere ospite si dimostra molto reattivo. Nell'occasione al trentaduesimo dal cross di Bontà non riescono a domesticare il pallone in area prima Vitali poi Rossetti. Per Cudini due cambi insieme al trentaquattresimo dentro Ladu e Tengoranga al posto di Brenci e Bontà. Il campo basso riesce a piegare la resistenza di una buona squadra avversaria al trentaseiesimo quando Rossetti da circa venti metri dalla porta ospite carica un destro a mezza altezza su cui Prudente non può nulla. Rosso-blu avanti ma che fatica. La marcatura scioglie la squadra di Cudini che ora sembra giocare in maniera più disinvolta. L'Aprilia accusa il colpo a livello morale. Al quarantaquattresimo l'appoggio di Rossetti a Ladu vale un mancino che termina abbondantemente alto. Vengono assegnati tre minuti di recupero. Al novantunesimo c'è il fallo di Sossai su Tengoranga esattamente al limite secondo il direttore di gara o qualche centimetro fuori l'area stessa. La conseguente punizione di Esposito sorvola la traversa. Al terzo minuto di recupero l'Aprilia grazie al campo basso punizione calciata da Vasco e forse Sbardella a colpire di testa innescando involontariamente la corrente Bossi che manca la palla a due metri dalla linea di porta. Sarebbe stato certamente il pareggio per gli ospiti. Il campo basso tira un deciso sospiro di sollievo. L'Aprilia si prende i complimenti del post partita. Il campo basso i tre punti e si riappropria del primato solitario. Mercoledì turno infrasettimanale ad Agnone.